Un gradito ritorno, è una pianista che suonava spesso molti anni fa, Svetlana Oseinova. Svetlana viene dall'Azerbaijan, la parla bellissimo italiano, è già suonata da noi molti anni fa, adesso non la vedevo, poi ho saputo che è stata operata all'Anca, purtroppo. Comunque adesso riprendiamo. Grazie. Svetlana accompagnerà al pianoforte Nina Almark. Nina Almark, cantante già con una brillante carriera, viene dalla Finlandia e canterà in nove lingue stasera. Grazie. Toivopulla, kesäyö, kirkko maalla. Finlandia. 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 Finlandia, гол. Finlandia. Finlandia,ondernInanima joo, Finlandia, Resources,ando sinne, Ma in bell'oske lupi Sì vien ad hoc sil saureg tuin Ui se tristi työ saureg subi E non ho ninten vivistevis Soi tenni kuin caigun olor lor Cartoicino esis E nissu lupi suurinare E nissu lupi suurinare Tänne jos ennana illanilien Tunder omit seis un kulke Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.